Avviate da questa mattina nel comune di Giulianova le somministrazioni dei vaccini anti-covid nel lab allestito dall'Asley Teramo nella sala polifunzionale Ipioppi nel quartiere annunziata. L'obiettivo di oggi e dei prossimi giorni è quello di vaccinare 400 persone al giorno di età compresa fra i 70 e 79 anni che hanno effettuato l'iscrizione attraverso la piattaforma messa a disposizione dalle poste. Siamo partiti oggi per la prima volta come piattaforma delle poste, sembra che gli utenti siano tranquilli e ordinati, chiediamo la puntualità che è importante, quindi non bisogna venire né prima né dopo dell'appuntamento. Il sistema poste dà un orario consigliato, cerchiamo di mantenere quell'orario proprio per evitare assembramenti e file all'esterno, per il resto mi sembra che la situazione sia abbastanza scorrevole e vediamo poi i risultati dopo i primi due o tre giorni di prova. Sicuramente qualcosa dovremo aggiustare, qualche percorso è da correggere, però la giornata mi sembra affilata bene. L'obiettivo per i primi giorni è circa 400 vaccini? Sì, noi ci siamo stabilizzati su 400 vaccini al giorno, il giovedì, venerdì e sabato e siamo partiti con questi numeri proprio per mettere a punto tutta l'organizzazione, non sapendo come sarebbe stata poi la risposta. Potenzialmente questo hub può esprimere molto di più, è un hub con otto linee predisposte e è chiaro che al regime può sviluppare 1500 vaccini al giorno. Ovviamente c'è bisogno di vaccini? C'è bisogno di vaccini, c'è bisogno anche di personale che possa poi utilizzare queste linee, la direzione sanitaria aziendale ha stabilito per adesso questo tipo di flusso, vediamo, chiaramente se arrivano più vaccini noi siamo pronti, almeno come struttura e come organizzazione per poter reggere questi numeri.